Questa tavola rotonda la impostiamo in maniera un pochino differente da quella precedente perché avremo un intervento di apertura della dottor Poletto che ci farà un po' una fotografia di quello che è il mercato dell'open and embedded insurance attualmente, non solo in Italia ma anche a livello europeo e globale perché vogliamo un po' ampliare i confini. Però prima di riferirci ai numeri che ci danno sicuramente una panoramica precisa della situazione, io vorrei partire dalle definizioni perché è vero che le parole open and embedded insurance sono sempre più utilizzate nel nostro vocabolario ma è anche vero che qualche volta si fa ancora confusione soprattutto nella sovrapposizione tra open insurance e open banking, cosa che invece non è esattamente così. Quindi le chiedo innanzitutto dottor Poletto di aiutarci a chiarire i termini open and embedded insurance. Partiamo da qui. Grazie Valentina, buongiorno a tutti. Sì, in effetti si tratta di due modelli, chiamiamoli modelli, piuttosto recenti, dei quali si parla molto, un po' ad eventi su LinkedIn, c'è molto rumore attorno all'open and embedded insurance e nonostante ciò notiamo che c'è un certo gap di conoscenza su cosa in realtà questi modelli sono a partire dalle definizioni. Quindi una definizione universalmente riconosciuta di embedded insurance oggi non esiste, noi all'osservatore abbiamo ideato la nostra, mentre c'è un po' più di convergenza su l'open insurance in quanto IOPA per esempio ha fornito una definizione di open insurance che oggi è considerata la definizione diciamo più appropriata. Quindi partendo dall'open insurance, l'open insurance fondamentalmente riguarda di dati insurance related per usare un termine inglese. Quindi open insurance riguarda l'accesso e la condivisione di dati insurance related tra le persone, le aziende che diciamo sono le proprietarie dei dati, dei propri dati, le compagnie di assicurazione, gli operatori della filiera assicurativa in generale e terze parti. Quindi creazione di dati e condivisione accesso e condivisione di questi dati. La differenza rispetto all'open banking è una differenza ad oggi sostanziale che consiste nel fatto che mentre nel settore dei servizi finanziari bancari esiste una direttiva in Europa, una direttiva in UK e in altri paesi che diciamo ha stabilito che a determinate condizioni e nei confronti di soggetti con determinati requisiti i dati bancari devono essere aperti, devono essere messi a disposizione di questi soggetti e questo ha dato avvio, diciamo ha consentito la realizzazione, la creazione di numerose start up, numerose fintech, alcune delle quali oggi sono anche aziende che valgono miliardi di dollari. Questo nel mondo assicurativo ancora non esiste, quindi non esiste l'equivalente dell'open banking e dell'open insurance, sono l'istituto della direttiva europea che mette, obbliga per così dire le assicurazioni ad aprire, ad esporre i loro dati. Quindi un gap a livello normativo innanzitutto. C'è un gap a livello normativo che a quanto sembra verrà colmato quest'anno, sembra che la Commissione europea rivedrà la sua impostazione normativa sul tema dei servizi finanziari digitali e in base a informazioni in nostro possesso sembra che questo coinvolgerà anche i dati di tipo assicurativo. Quindi, ripeto, in base ai dati in nostro possesso che derivano da persone che fanno parte del team di lavoro in Commissione europea, entro quest'anno potrebbe nascere un omologo della direttiva open banking anche per il settore assicurativo in Europa. Noi sappiamo che la Commissione europea è molto attenta al tema dei dati e della tutela dei dati. Questo per quanto riguarda l'open insurance, mentre per quanto riguarda l'embedded insurance, non c'è una definizione universamente riconosciuta. Noi all'osservatorio definiamo l'embedded insurance come collaborare con brand non assicurativi, quindi con aziende appartenenti a diversi verticali, diversi mercati, possiamo andare dalle telco, ai car manufacturer, alle società di e-commerce, retailer. Quindi collaborare con brand non assicurativi per consentire a questi brand di offrire ai loro clienti, prodotti e servizi assicurativi. Anche se il concetto di embedded insurance è piuttosto recente, se ne parla in modo importante da forse un paio d'anni, in realtà il modello sottostante non è un modello nuovo e sconosciuto in quanto le compagnie di assicurazioni da decenni, forse da un secolo e mezzo, offrono o cercano di offrire i loro prodotti tramite canali alternativi. Noi abbiamo fatto una serie di ricerche e abbiamo scoperto che forse il primo caso di una compagnia di assicurazione che ha cercato di espandere i propri canali distributivi al di fuori dei canali tradizionali è stata una compagnia negli Stati Uniti che intorno alla metà del 1800 ha dato la possibilità di acquistare le proprie polizie vita tramite servizio postale. In quel caso non ha funzionato per il fatto che comunque le assicurazioni... Forse erano troppo avanti. Erano già troppo avanti, sì. Quindi questo per dire che il modello non è un modello sconosciuto, però c'è un motivo se oggi si parla molto di questo modello, cioè che con la digitalizzazione dei canali, con la digitalizzazione dei dati, questo modello oggi dà la possibilità a qualsiasi tipo di brand, a qualsiasi tipo di azienda di diventare per così dire una insurtech, cioè di offrire prodotti e servizi assicurativi ai suoi clienti. E qui il rapporto tra open insurance e embedded insurance è piuttosto stretto, in quanto embedded di insurance è sì, una tematica di distribuzione, cioè la possibilità di offrire e vendere i propri prodotti tramite una pluralità di canali non tradizionali. Però in questo c'è un forte legame con il tema dei dati, nel senso che il tema puramente distributivo diventa molto più ricco e interessante per gli assicuratori se guardiamo all'opportunità di utilizzare i dati in possesso dei verticali tramite i quali vogliamo distribuire i prodotti, come possiamo utilizzare quei dati per conoscere meglio i clienti. Poi posso fare degli esempi un po' più avanti. Certo, ecco il grande anche questo filo rouge un po', no? I dati che ci forniscono una profilazione ancora più precisa delle esigenze del cliente per andargli sempre più incontro e cercare di soddisfare questi bisogni. Ecco, ci ha fornito una definizione di open and embedded insurance, ma adesso andiamo ancora più nel concreto ai dati per completare questa panoramica iniziale di questo nuovo segmento, settore lo possiamo così definire. Perché appunto lei è anche il founder di questo osservatorio, un osservatorio che guarda sicuramente alla realtà italiana, ma non solo, perché avete numeri che riguardano il comparto a livello globale. Innanzitutto, quali sono i trend del momento, del 2023? Quante aziende sono coinvolte dall'osservatorio? Sì, grazie. Io ho fondato l'osservatorio nel 2020 e ho fatto dell'osservatorio il mio lavoro full time l'anno scorso, in questo periodo, quando stavamo organizzando la nostra prima riunione plenaria di Londra. È un'organizzazione internazionale, l'osservatorio, abbiamo anche un team che lavora da diversi paesi da remoto, abbiamo oltre 50 membri, compagnie di assicurazione e riassicurazione, insurtech e distributors, aziende da tutto il mondo, dal Nord America, dall'Europa, dall'Asia. Ci sono dei trend decisamente interessanti che stiamo osservando quest'anno. Ne abbiamo presentati alcuni l'altro ieri durante un workshop online che abbiamo fatto con i nostri membri. Per esempio, un primo trend secondo me molto rilevante che stiamo osservando, che avevamo già intercettato l'anno scorso, ma quest'anno 2023 sta accelerando, è per così dire una integrazione verticale da parte dei distributori. Per distributori intendo i brand non assicurativi che offrono prodotti assicurativi. a livello del loro customer base, quindi le telco, carmanofaxler, eccetera. Cosa intendo per l'integrazione verticale? Cioè tipicamente questi brand, diciamo un tradizionale modello affinity per esempio, hanno lavorato in una logica di lead generation, cioè offro prodotti assicurativi alla mia customer base e la compagnia di assicurazione mi paga una fee per avergli procurato un cliente, per spiegarli in modo molto rudimentale. Quello che sta succedendo oggi che stiamo osservando è che soprattutto negli Stati Uniti e in Inghilterra, un numero crescente di questi brand si sta integrando verticalmente, cioè si stessi diventando agenti o broker, quindi stanno bypassando gli intermediari e in alcuni casi stanno diventando assicuratori. Quindi in questo modo completano un'integrazione verticale completa, quindi da puri distributori acquisiscono una licenza assicurativa magari acquistando una piccola compagnia, naturalmente acquisiscono internamente anche le capabilities per gestire il proprio business assicurativo perché chiaramente gestire un business e un PNL assicurativo è una cosa completamente diversa da gestire un PNL di una telco o di un'azienda di e-commerce. E quindi questo è un trend rilevante, quindi una disintermediazione non solo degli intermediari ma in alcuni casi anche delle compagnie. Poi un altro trend molto interessante che stiamo notando quest'anno è la crescita dell'applicazione dell'embedded insurance nel segmento delle PMI, cioè tradizionalmente o meglio nel 2022 abbiamo osservato circa un 80% di nuove partnership distributive nel mondo dei prodotti retail, quindi prodotti per la linea persone come polizze travel, device protection, extended warranties e un 20% di nuove parti distributive nel mondo delle PMI, quindi prodotti destinati alle piccole e micro e piccole e medie aziende. Quest'anno stiamo osservando un'inversione di tendenza, cioè quasi la metà delle nuove partnership sono nel mondo delle PMI. Quindi gli assicuratori stanno decisamente accelerando sull'adozione del modello embedded insurance per andare ad assicurare le PMI tramite canali alternativi. E quali sono questi canali? Questo è un altro aspetto molto interessante. Sono canali che fino all'altro giorno erano impensabili per le assicurazioni, cioè oggi i polizze e le PMI vengono vendute tramite i software di contabilità, utilizzati delle PMI per gestire la propria contabilità, tramite i siti di e-commerce B2B, tramite i marketplace delle banche, delle fintech, tramite i software di logistica. Quindi ci sono una pluralità di nuovi canali che oggi vengono utilizzati dalle compagnie di assicurazione della Insurtech per andare a catturare micro e piccole e medie aziende, molte delle quali oggi non sono assicurate. E questo è direi anche un aspetto importante da considerare, perché non dobbiamo mai dimenticare che in media, a livello globale, circa il 50% delle micro e piccole e medie aziende sono o non assicurate o pesantemente sottoassicurate. E questo naturalmente è un gap che in qualche modo bisogna colmare. Sì, assolutamente, è un gap che va colmato. E prima di passare la parola poi anche alle aziende proprio che operano sul campo. Un ultimo spunto a proposito di colmare il gap. A livello anche internazionale abbiamo visto la panoramica, lei ha detto dati che si riferiscono soprattutto al mondo americano, al mondo anglosassone. La domanda viene proprio spontanea. E noi? Perché c'è sempre da chiederselo, no? Quando si parla di settore assicurativo e di Italia, che non sono proprio un binomio vincente. Insomma, sappiamo che rispetto ad altri paesi, forse anche per cultura, no? Il rapporto tra aziende, clienti singoli, anche assicurazioni non è così stretto. Io mi riferisco agli Stati Uniti dove c'è praticamente un prodotto assicurativo per tutto, qua invece, insomma, non è esattamente così. Nel campo dell'imbedded insurance, ecco, questo gap dell'Italia rispetto al resto dell'Europa e del mondo è ancora così elevato? Esiste, è ancora abbastanza elevato, però vediamo dei segnali incoraggianti. È un numero crescente di partnership anche in Italia, partnership distributive soprattutto con catene di retail, piuttosto che con grandi telco, poi Cesare ci racconterà qualcosa, immagino a questo riguardo. Nel mondo della mobilità, per esempio, abbiamo in Italia un campione, una super app che è Telepass, che io considero una super app, che assolutamente sta viaggiando al di sotto dei radar, un po' di tutti i centri di ricerca, di tutti gli analisti di mercato, però Telepass oggi è un'azienda che in pochi anni si è trasformata da un'azienda che gestisce i pagamenti nell'autostrade ad un'azienda che ha sistemi di pagamento, assicurazioni, servizi per la mobilità, tutto all'interno di un'app. Quindi in Italia, diciamo, esiste sicuramente un gap ancora, però tante volte il gap è sovrastimato rispetto alle realtà, nel senso che abbiamo delle realtà delle eccellenze che oggi per qualche motivo navigano ancora sotto traccia le vengono, diciamo, non valorizzate, forse come meriterebbero, a livello di comunicazione. Certo. Ecco, allora, a proposito di andare a vedere le eccellenze di questo mondo, noi abbiamo qua due aziende molto importanti del settore, Yolo e Voltec. Beh, innanzitutto vi introduco, vi presento. Parlando di Yolo, ecco, una prima insurtech, è stata la prima insurtech italiana, nata nel 2017, a fornire microassicurazioni e assicurazioni on demand completamente digitali con un canale proprietario web e mobile. E tra l'altro ha avuto una crescita veramente esponenziale in pochissimo tempo, perché, lo abbiamo detto, nata nel 2017, dopo cinque anni viene quotata in borsa nel segmento Aeronext Growth di, appunto, di Piazza Affari ed è la prima insurtech a entrare in questo listino. E poi abbiamo Voltec, a proposito di aprire, ecco, il panorama internazionale, Voltec è una insurtech internazionale con base a New York e Singapore, ma attiva su 30 mercati diversi. È ancora più giovane di Yolo, perché è stata lanciata nel 2020 e gestisce una piattaforma digitale di embedded insurance che connette diverse compagnie assicurative e consente anche di offrire ai clienti dei prodotti che non sono proprio specifici di quel settore. E in due anni, in appena due anni, ha raggiunto lo status di unicorno. Quindi, insomma, una crescita veramente esponenziale per queste giovani realtà. Ecco, io parto, naturalmente, dalla panoramica che ci ha offerto il dottor Poletto all'inizio della tavola rotonda. E per entrare poi nel merito, cioè, qual è lo stato dell'embedded insurance nel vostro segmento? Ecco, prima la dottoressa Pazzi. Grazie, grazie per la domanda. Buongiorno, buongiorno a tutti. Il dato forse più rilevante, più interessante è che gli investimenti a livello globale nell'embedded, open embedded insurance sono in crescita. E quindi sempre più compagnie fanno dell'open e embedded insurance una priorità strategica all'interno dei propri piani di sviluppo, investendo sia in competenze professionali che tecnologiche per poterlo rendere possibile. Quindi, nonostante, come ci ha ricordato Yuri poco fa, non sia ancora mainstream a livello di distribuzione italiana, si inserisce all'interno di quell'approccio verso open finance, quindi in tutte le sue declinazioni, quindi sia sul lending che sui pagamenti, sul banking. Quindi, diciamo, l'embedded insurance ha beneficiato in qualche maniera, ha avuto un impulso e una spinta dal movimento di open finance che è un movimento ormai a livello globale. Detto questo, è chiaro che distribuire e offrire prodotti e servizi assicurativi non è da tutti, richiede competenze che sono in primis tecnologiche, ma anche di prodotto, anche di normativa, di compliance. E questo ha visto il diffondersi sul mercato di operatori come YOLO, quindi abilitatori, inabler tecnologici, che sono al tempo stesso anche broker assicurativi, broker intermediari assicurativi, che quindi possono accompagnare tutta una serie di partner non assicurativi, a partire da destituti bancari, ma anche noi lavoriamo molto con player telco, utilities, player del mondo retail, quindi potenzialmente tutte le aziende oggi potrebbero, tutte le aziende che si fondano su un modello di business digitale potrebbero potenzialmente abbinare e quindi incorporare un'offerta assicurativa come una feature nativa all'interno della propria velo proposition. Questo è stato reso possibile dall'accelerazione che il digitale ha avuto negli ultimi anni, quindi non saremmo qui oggi a parlare di embedded insurance se le aziende e i partner con cui lavoriamo, i partner distributivi, non avessero un'offerta core già sul digitale. Come dicevo noi lavoriamo molto con i bank assurance, quindi bank assurance digitale è uno dei comparti che più sono coinvolti nello studio, nell'adozione di polizze digitali all'interno della propria offerta, anche se il modello fully embedded è ancora in fase di sviluppo e quindi c'è ancora molta strada da fare. Oltre alle banche ci sono poi tutti gli e-commerce che rappresentano poi il settore trainante di un approccio open embedded insurance per la grandissima mole di clienti, la vastissima base di clienti digitali che già hanno a disposizione e sono player che vogliono prendere il controllo dell'experience dei loro utenti sulle loro properties, quindi non vogliono limitarsi a fare da canale distributivo addizionale ma diventare protagonisti anche dell'offerta assicurativa embeddedata all'interno dei loro prodotti. Concludo dicendo anche che lo sviluppo, la diffusione di wearables, di tutta l'applicazione IoT, connected devices è molto funzionale alla diffusione, all'adozione dei modelli di open embedded insurance perché consente di fatto l'abbinamento di un'offerta assicurativa all'interno di un prodotto prendendo in considerazione e partendo dai dati specifici di quell'utente, quindi siamo al massimo livello di iper targetizzazione, iper personalizzazione. Ecco io mi rifaccio perché insomma spesso succede, dalle risposte dei miei interlocutori nascono nuovi spunti e lei dottoressa Pazzini ha detto il segmento dell'open embedded insurance non è ancora mainstream ma è in ascesa, ecco lo potrebbe diventare mainstream e tra quanto tempo? Io lo chiedo al dottor Bisio. Buongiorno a tutti anche da parte mia e grazie dell'invito di oggi. Sicuramente sì e volte che da questo punto di vista ha l'opportunità e il privilegio di poter operare su un mercato internazionale. Il nostro gruppo è presente all'interno di 30 paesi distribuiti su tre continenti, dall'Asia dove siamo nati come gruppo e all'Europa dove siamo partiti di fatto nel 2019 quando ancora non esistiamo come gruppo ma comunque l'azienda già esisteva partendo proprio dall'Italia e dal mercato del Nord America. Quello che riscontriamo all'interno di questi mercati che sono molto diversi e quindi ciascuna delle proprie caratteristiche comunque è uno slancio, una forte crescita di tutto quello che è la cosiddetta embedded insurance. Così come la definiva Yuri, embedded insurance anche per noi è l'opportunità di poter distribuire prodotti assicurativi attraverso canali che non sono certamente assicurativi o che non sono nati in quel contesto ma che trovano un'opportunità dalla parte del prodotto assicurativo di poter arricchire il proprio portafoglio di offerta, di poter creare una maggiore fidelizzazione con i propri clienti e quindi poter ampliare le proprie potenzialità di crescita nel mercato e di sviluppo. Quello che fa Boltec è proprio questo. Boltec non opera con un modello direttamente al consumatore finale ma in cosiddetto modello B2B2C. Quindi lavoriamo con dei partner che a loro volta poi hanno il contatto e la relazione con il cliente finale. Il mercato dell'embedded insurance è un mercato che le proiezioni trend e quello che sta accadendo prevedono avrà una forte crescita. Alcune ricerche di mercato proiettavano un valore di circa 5 trillions come potenziali di crescita nell'arco di 10 anni su un mercato che ne varrà circa 80. Quindi è una fetta sicuramente rilevante e importante. Il punto di forza della parte distributiva e embedded credo che risieda proprio nel fatto di poter portare il prodotto assicurativo al cliente nel momento in cui ne ha bisogno e nel momento in cui quindi la possibilità di poter avere successo nella distribuzione assicurativa in quel momento è più alta. Faccio un esempio pratico per cercare di concretizzare questo concetto. Tra i vari ambiti in cui opera Boltec c'è sicuramente quello della device protection. Lavoriamo con l'Eterco, lavoriamo con costruzioni terminali. È un'area di competenza molto forte all'interno del nostro gruppo. La device protection è un prodotto trasversalmente di successo all'interno dei mercati proprio perché offre il prodotto assicurativo al cliente nel momento in cui ha acquistato un dispositivo nuovo, uno smartphone nuovo, un qualche cosa che in quel momento per lui ha una rilevanza, un'importanza e quindi la spinta anche a proteggere quel dispositivo è molto forte e molto alta. L'embedder lavora su questo, lavora a supportare il prodotto assicurativo vicino al cliente nel momento in cui ne ha bisogno e quindi credo che questo qua rappresenti uno dei punti di forza di questo modello distributivo. I mercati lo stanno in qualche maniera anche riconoscendo. Condivido con voi la notizia che è importante per Bolte ma credo che sia importante per l'intero settore. La scorsa settimana abbiamo comunicato recentemente la chiusura di un round di investimento di serie B raccogliendo 196 milioni di dollari all'interno del mercato. È un segnale serenamente positivo per la nostra azienda ma credo per tutti quanti gli operatori di questo mercato e oltretutto è stato fatto valorizzando l'azienda con una crescita di quello che è il suo valore di capitalizzazione che oggi è stata portata a 1,6 miliardi. Quindi l'unicorno che è recitato da prima continua ancora a crescere e a svilupparsi. E credo che questo qua, come dicevo, sia un messaggio positivo per tutto il mercato, per tutta la industria, perché anche i mercati finanziari riconoscono la loro inchietta per questo tipo di percorso. Ecco, sì, certo, registriamo questa crescita. Abbiamo detto rapida, molto rapida, perché insomma in pochi anni c'è un aumento esponenziale e lo vediamo sempre di più man mano che andiamo avanti. Abbiamo detto che il digitale e la tecnologia è un fattore abilitante, abbiamo utilizzato molto spesso questo termine durante questa mattinata di lavori, un fattore abilitante per generare un valore, un valore che sia concreto poi sia per il consumatore, per il cliente che per la filiera assicurativa. Io voglio chiedere sia a Iolo che a Boltec come create voi valore nel concreto, magari se ci descrivete anche qualche caso pratico. Prego, io riparto dalla dottoressa Pazzini. Dunque, il legame tra la creazione di valore nel caso dell'insurtech e tecnologia è un legame diretto, nel senso che questo tipo di modello, di proposizione genera vantaggi per tutti gli attori della filiera, quindi siano a partire dai clienti finali, ma anche lato compagnia e lato distributore, quindi è un approccio win-win-win. Partendo dall'offerta, i modelli di open insurance di fatto vanno a cercare di colmare quel gap assicurativo di cui si accennava poco fa, nel senso che l'insurtech ha consentito alle compagnie di poter avvicinarsi, di poter raggiungere targhe d'utenza che non avevano mai comprato prima un'assicurazione. Quindi rende l'insurtech, il fattore abilitante che rende la proposta assicurativa più inclusiva, più inclusiva perché raggiunge fasce nuove e inesplorate. A livello di prodotto, il digitale consente alle compagnie non solo di digitalizzare prodotti esistenti e quindi renderli più appetibili e più fruibili per quel target d'utenza digitale che è un target in ascesa, lo vediamo se ha il numero degli utilizzatori di internet banking in ascesa, ma anche il numero di clienti che preferiscono affidarsi al digitale piuttosto che frequentare lo spazio fisico nella gente è in crescita. Quindi prodotti che appunto possono da un lato essere digitalizzati, ma anche prodotti nativi digitali, quindi prodotti completamente nuovi che possono essere messi sul mercato con una time to market molto più veloce e a costi inferiori. Costi inferiori di operativi inferiori si scaricano poi in un elemento di convenienza economica sul cliente finale. Quindi a livello di prodotto, un ultimo aspetto riguarda la possibilità che il digitale offre di abilitare distributori terzi e quindi di nuovo di rendere il prodotto assicurativo più, passatemi il termine, ubiquo, nel senso che lo trovo non più esclusivamente dalla gente, ma lo trovo in tutta una serie di contesti d'uso quotidiani, quelli a cui sono più avvezzo. È cambiato in tutto ciò il cliente, lo sentiamo dire molto spesso, il cliente si è abituato un po' al cosiddetto Amazon Style, quindi ha delle aspettative in relazione all'esperienza di consumo, all'esperienza con un brand assicurativo che sono oggi molto elevati. Il digitale permette quindi di soddisfare in maniera efficiente di questo tipo di nuovi bisogni, che sono bisogni anzitutto di connettività, di accessibilità, quindi voglio poter accedere all'offerta assicurativa quando dico io, dove dico io e con il dispositivo che io preferisco e lo voglio fare avendo più occasioni di contatto, di relazione con con chi mi sta erogando un servizio. E anche questo di nuovo è abilitato dal digitale, perché è intensificato e reso più frequente grazie al digitale. Perché ricordiamoci che poi il prodotto assicurativo è un prodotto che si presta a pochi scambi tra utente finale, cliente finale e brand assicurativo. Gli scambi sono di fatto la sottoscrizione del contratto, quindi il momento in cui tipicamente io ho un esborso anticipato rispetto ad un servizio che fa riferimento ad una probabilità che si potrà verificare o come no, cioè al sinistro. Sottoscrizione, gestione, denuncia del sinistro e rinnovo. Quindi il digitale intensifica tutti questi momenti di interazione, più momenti di interazione significano più dati che riesco a immagazzinare, quindi dati che analizzo, che posso gestire per profilare meglio quel cliente e quindi poter far sì che la sua esperienza sia un'esperienza più personalizzata. Un'esperienza che parte dall'esperienza di navigazione, quindi come customizzazione dei contenuti e dei servizi dell'offerta informativa che viene proposta, ma anche customizzazione e personalizzazione del prodotto che propongo sulla base delle specifiche caratteristiche di quel cliente. Quindi detto questo mi ritrovo molto anche nelle parole che sentivo prima su approccio ibrido e approccio figital, cosiddetto figital, per cui non dobbiamo considerare il digitale come qualcosa di sostitutivo o che viaggia in parallelo rispetto alla metafisica e alle reti tradizionali. I due ormai si contaminano a vicenda in maniera reciproca e oggi i modelli distributivi tendono di fatto a combinare da un lato engagement digitale, quindi tutte le caratteristiche migliori diciamo più apprezzate del digitale che danno più valore al cliente finale, sono la velocità, la capacità immersiva, l'immediatezza tipica del digitale con patrimonio di relazione, di fiducia, di trust, di empatia che il canale fisico riesce a creare. Allora abbiamo già messo sul piatto degli elementi importanti, l'intensificazione dei rapporti tra i vari attori, questo è un aspetto molto interessante rispetto a quello che accadeva in passato e poi abbiamo detto anche la possibilità attraverso il digitale di avvicinare coloro che non erano avvezzi al prodotto assicurativo e questa è una possibilità in più, quindi insomma sono già delle linee concrete per creare valore. Chiedo al dottor Bisio se oltre a questi caratteri che già sono stati definiti dalla dottoressa Pazzini vogliamo aggiungere qualcosa sul fatto di creare valore. Ma la tecnologia è indubbiamente un elemento abilitante, centrale, non solo per il mondo assicurativo, non solo per il mondo insurtech ma in maniera trasversale all'interno della nostra quotidianità. Ci sono credo due elementi importanti per la nostra esperienza e per quello che facciamo noi di come la tecnologia può trasformarsi poi in valore e le due figure chiave verso cui noi dobbiamo guardare sono da un lato il consumatore finale, quindi come la tecnologia può portare valore per il consumatore finale, dall'altro il nostro partner, raccontavo prima il modello B2B2C, quindi il partner che si rivolge a noi per avere supporto e per essere abilitato. Se guardiamo il consumatore finale, credo che il ruolo centrale dell'archeologia sia quello di semplificare, facilitare e riuscire a rendere il prodotto, in questo caso assicurativo, quanto più semplice, chiaro, trasparente, fruibile per chi poi dopo lo deve acquistare, per chi deve capire se quello è un prodotto che va incontro a quelli che sono i suoi bisogni e alle proprie esigenze. E da questo punto di vista, quello a cui noi poniamo molta attenzione come gruppo, come Bolt, è che abbiamo un centro di sviluppo in Asia, che però lavora per tutto quanto il mondo, di cosiddetto service design. Quindi quotidianamente noi raccogliamo dati, informazioni da parte di tutti quanti gli utenti e clienti dei nostri servizi e cerchiamo di giorno in giorno di capire quali possono essere i piccoli step migliorativi che di volta in volta poi possono portare ad un percorso che sia sempre più facile, fruibile e ottimizzato per il consumatore finale. E la tecnologia gioca un ruolo centrale, sia dal punto di vista della raccolta dati, sia dal punto di vista dell'elaborazione che poi della messa in campo per trasformarsi in soluzioni, in prodotti che possano rispondere a questo tipo di esigenza. L'altro aspetto, dicevo, è quello invece legato al nostro partner, al partner distributivo. Da questo punto di vista la tecnologia per il partner è spesso un elemento, uno strumento per poter portare all'interno del proprio portafoglio un'offerta, ma non vuole concentrarsi sulla complessità, su tutto quanto quello che è legato a gestire anche una relazione con compagnie assicurative, aspetti regolamentari, normativi, che fanno parte dell'estibuzione del prodotto assicurativo. Ancora una volta la tecnologia sopperisce a questo tipo di esigenza da parte del partner e il ruolo di Boltec è quello di porsi come intermediario fra il nostro partner e tutta la complessità del mondo esterno, per fare in modo che attraverso una singola integrazione, una singola API, ed era interessante vedere nella presentazione anche di questa mattina del dottor Renga, dove quando si parlava di elementi abilitanti, il concetto di API, con un concetto abbastanza tecnico, fosse comunque in cima alla lista come punto di attenzione da parte dei clienti del mercato. Ecco, riuscire a gestire questa complessità integrandosi e facendo lo sforzo a nostra volta e poi poter beneficiare di tutto quanto quello che il mercato offre, rappresenta un ulteriore valore per il nostro partner e la tecnologia è lo strumento con cui noi cerchiamo di dare questo tipo di risposta. Ecco, a proposito di API ecosystem, ancora ritorniamo al concetto di ecosistema e questa è una domanda che rivolgo a tutti e tre gli speaker per chiudere il panel di discussione. C'è bisogno di un cambio forte di mentalità, perché insomma si parla un po' di smaterializzazione dei confini, di perdita anche del potere da parte degli attori tradizionali, di apertura verso nuovi player. Io vi chiedo, l'Italia è pronta? Ecco, questa mentalità pian piano si sta fermando. Quali sono invece ancora i limiti, le resistenze che riscontrate ed eventualmente che cosa fare per superarle? Ripartiamo dalla dottor Poletto. Sì, grazie. Ma allora, io non sarò molto diplomatico in questa risposta, nel senso che, per come la vedo io, l'Italia oggi ancora purtroppo è un paese che è culturalmente, economicamente troppo concentrato sulla protezione di rendite di posizione, la protezione dello status quo e questo naturalmente non crea un ambiente favorevole all'innovazione e alla nascita di nuove campioni in economia. Un dato, secondo me significativo, per esempio, la conseguenza di questa situazione è per esempio il numero di brevetti depositati. L'Italia, pur essendo un paese del G8, non è tra i primi dieci paesi in termini di numeri di brevetti depositati. Siamo a circa il 40% del numero di brevetti depositati dalla Francia. Questo è uno degli indicatori che universalmente vengono riconosciuti come indicatori di innovazione. E poi, se posso dire anche un'altra cosa, io vedo tanta buona volontà, però vedo ancora troppi founder e creatori di aziende in Italia che sono troppo concentrati sul loro mercato interno, che non hanno esperienze di vita e di lavoro all'estero, per esempio. Purtroppo fare impresa oggi in Italia significa fare impresa in un contesto globale. Non siamo più negli anni 50, dove finita la seconda guerra mondiale si metteva su una fabbrica, si costruiva qualcosa che serviva per ricostruire l'Italia e se dava successo. Oggi per avere successo bisogna attirare talenti da tutto il mondo. In America, oltre la metà degli unicorni, cioè aziende che valgono oltre un miliardo di dollari, oltre la metà, sono state create da immigrati o da figli di immigrati. Queste persone arrivano agli Stati Uniti perché gli Stati Uniti offrono opportunità. In Italia purtroppo questo ancora non c'è. Secondo me è uno dei limiti che abbiamo. Chiaro. Lei ha utilizzato un'espressione, il mantenimento dello status quo. Un'espressione fine, diciamo. Ecco, io sarò molto più grezza, più pop. C'è in Italia la tendenza della difesa del proprio orticello. Ecco, diciamo così. Soprattutto in questo settore che abbiamo definito un po' paludato, un po' uguale a se stesso per tanto tempo. Quindi anche magari è una questione di abitudine che deve essere sviluppata all'apertura, all'internazionalizzazione. Che cosa si può fare per abbattere queste barriere, dottor Bisio? Sicuramente c'è un aspetto culturale di crescita che il nostro paese deve fare. Noi questo lo riscontriamo molto dal confronto del panorama internazionale. Quando guardiamo i mercati come il mercato degli Stati Uniti, sono sicuramente paesi, o anche la stessa Inghilterra, se guardiamo più alla parte dell'Europa, sicuramente più avanzati e evoluti dal punto di vista proprio culturale, della cultura assicurativa, del bisogno, del rischio. E quindi da questo punto di vista sono mercati in cui c'è molta più competizione, ma anche molto più facile portare certi tipi di innovazione. C'è un esempio che volevo raccontare oggi perché penso che sia rappresentativo di quello che accade sempre nel mercato internazionale. Nel mercato nordamericano uno dei nostri partner è Progressive. Progressive è una compagnia assicurativa molto molto grande nel mercato nordamericano, soprattutto nell'ambito auto, nell'ambito motor. Loro sono uno dei player di maggior pesa all'interno di quel mercato, ma hanno sviluppato competenze esclusivamente solo in quel contesto. Nel corso degli anni e grazie in questo caso alla collaborazione e al supporto che hanno avuto con noi, hanno ampliato la loro offerta di prodotti assicurativi andando ad aggregare tutta una serie di prodotti di compagnie potenzialmente anche concorrenti che sviluppavano prodotti in altri ambiti verticali che loro non coprivano e hanno sfruttato l'opportunità della loro base clienti, della loro cosiddetta customer base, per poi poter distribuire e vendere anche altri prodotti assicurativi, non della compagna stessa, ma che potevano essere affiancati e sviluppati. Questo è un tipo di apertura e di approccio verso il mercato che è sicuramente molto innovativo e forse difficilmente applicabile nel mercato nel contesto italiano, ma rappresenta secondo me uno dei modelli evolutivi verso cui comunque ha senso quantomeno confrontarsi, ha senso guardare per cercare di capire come si può pensare di creare valore all'interno di questo. È un percorso di crescita, è un percorso di crescita che deve essere superato dal punto di vista tecnologico, parliamo prima di barriere, ci deve essere comunque un'offerta di prodotto che deve essere sufficientemente digitalizzata per poter portare poi l'offerta a bordo delle piattaforme. Ci deve essere un'evoluzione culturale da parte del consumatore e da parte delle aziende che devono comprendere di avere certi tipi di bisogno e devono avere l'ambizione e la volontà di potersi confrontare verso nuovi modelli distributivi e credo ci debba essere anche poi un'evoluzione dal punto di vista del mercato regolamentare e della compliance, c'è ancora molta complessità da questo punto di vista e se guardiamo anche il mercato europeo che per alcuni versi si sta in certi punti uniformando, si sta trovando comunque dei punti d'incontro, ancora oggi quando noi approcciamo i vari paesi in Europa di fatto sono paesi che vengono approcciati uno a uno e difficilmente quello che abbiamo in un paese riusciamo a riportarlo così come è tale e quale all'interno di un altro contesto. Questo potrebbe ancora una volta accelerare, velocizzare e favorire un arricchimento dell'offerta prendendo le cosiddette backspace in alcuni mercati e poterle allargare e poterle ampliare in maniera più facile e agevole all'interno di tutto quanto il contesto. Ecco, Dottor Bisio lei ha citato due elementi non di poco conto, il gap tecnologico, il gap normativo e la difficoltà di far mettere radice all'innovazione qui in Italia. Che cosa significhi questo? Ecco, lo possiamo riferire proprio all'esperienza anche di Iolo, della dottoressa Pazzini, cioè che cosa significa cercare di proporre un'innovazione non solo in Italia ma in un settore ancora un po' resistente come quello assicurativo? Voi ci state provando naturalmente con la vostra esperienza, quali sono gli ulteriori passi da fare e soprattutto il cambio di mentalità definitivo è possibile? Sì, certo è possibile perché i segnali sono incoraggianti, è un percorso di trasformazione digitale, è un percorso lungo, complesso, ci sono delle resistenze ma ci sono anche molti segnali positivi. Iolo è appena uscito da un percorso di start-up, come ricordato prima ci siamo quotati l'estate scorsa, quindi va però, mi viene diciamo in mente un po' sentendo prima parlare gli investimenti in Italia, in start-up, in short-tech, sono investimenti rispetto a player esteri ma senza andare negli Stati Uniti, prendendo anche soltanto Francia e Germania, viaggiamo su ordini di grandezza veramente molto molto diversi ed è un peccato perché proprio dalle start-up che potrebbero partire la vera innovazione perché si possono per definizione muovere in un ambiente che è molto più libero rispetto a player incumbent. Il Politecnico di Impilano insieme all'Italian Insure Tech Association ha sviluppato un indice che registra proprio il livello di maturità negli investimenti in insure tech, quindi l'insure tech investment index che di fatto ha dato una valutazione negativa, insufficiente lo scorso anno, quindi anche questo ci dovrebbe far riflettere perché se da un lato aumentano i progetti interni, i progetti di open innovation interni alle compagnie e aumentano anche gli accordi di collaborazione tra player diversi, rimane un po' gli investimenti sul punto lato start-up faticano a recuperare questo gap. Detto questo poi tornando al tema prima di difesa delle posizioni, di fatto ridotto alla sua essenza open embedded insurance è scambio di dati, detto in tre semplici parole, ma scambio di dati tra tutta una pluralità di attori che rende la cosa estremamente complessa, perché noi abbiamo citato le compagnie, abbiamo citato i panel distributivi che possono essere di diversi settori, non dobbiamo dimenticare anche i broker, gli intermediari, gli agenti che fanno parte della filiera associativa e che sono parte di questo movimento, ma naturalmente far parlare tutti questi interlocutori è estremamente complesso, estremamente complesso proprio perché manca da un lato c'è un vuoto normativo e quindi manca un perimetro definito, un set di regole chiare e precise che stabiliscono come deve avvenire questo scambio e quindi gli scambi di informazioni di fatto dipendono da accordi tra le parti e quindi questo fa emerge un tema di titolarità del dato, cioè alla fine della giornata, ma chi è responsabile della gestione di questi dati in tutto questo ecosistema in cui si parlano tutti questi player? Quindi c'è un tema di titolarità del dato, di portabilità del dato e alla fine di tutela del consumatore finale, che è un consumatore che deve essere sempre assolutamente consapevole, informato e prendere decisioni autonome, ma questo presuppone appunto che abbia completa cognizione del che cosa implica un approccio digitale di questo tipo. C'è poi il tema della cultura, quindi un tema di cultura di condivisione del dato, c'è il gap normativo ma c'è anche un tema che definirei di cultura della condivisione del dato e per finire di competenze, competenze interne al settore assicurativo per cui mancano ancora figure altamente diciamo con un expertise forte sulla tecnologia che possono veramente impattare quindi la velocità di innovazione, di capacità di innovazione all'interno delle compagnie, ma anche education sul consumatore finale, questo non ha a che vedere nello specifico la digitalizzazione o l'open embedded insurance, ma un tema più generale del settore assicurativo. Abbiamo, siamo il Paese con la spesa pro capite tra le più basse in Europa in protezione assicurativa, un terzo di quella tedesca e francese. Questo nonostante viviamo in un Paese tra i più vulnerabili a eventi sismici, idrogeologici, atmosferici, climatici e così via. Quindi c'è un tema proprio di alfabetizzazione anche assicurativa di conoscenza del rischio e della necessità di coprirlo. Ecco, tra l'altro in termini di formazione sono stati fatti dei piccoli passi in avanti, almeno per quanto riguarda l'ambito finanziario. Non so se avete sentito la notizia dell'introduzione e dell'educazione finanziaria anche nelle scuole. Insomma, un passo importante e decisivo. Forse un qualcosa andrebbe fatto anche per la cultura assicurativa, visto che dal punto di vista della mentalità, lo abbiamo detto, rispetto agli altri Paesi c'è una grande distanza da colmare. Sicuramente passi in avanti ne stiamo facendo, ma la strada è ancora lunga. Per il futuro le sfide sono tante. Io ringrazio i panelist di questa tavola rotonda per il loro intervento. Grazie a Yuri Poletto, founder Open Embedded Insurance Observatory. Grazie a Cesare Bisio, CEO of Southern Europe Boltec. E infine a Roberta Pazzini, Chief Communication Officer di Yolo. Grazie molte per essere stati con noi.